Nasce dalla passione per lo studio della fitoterapia il primo festival delle erbe della Calabria che da venerdì 21 a domenica 23 luglio presso il complesso della Filanda San Vito sullo Ionio nel Catanzarese coinvolgerà associazioni, appassionati, esperti e quanti vorranno approfondire attraverso workshop e conferenze programmate la conoscenza di un mondo tutto naturale che si prende cura della nostra salute, ma non solo. La tre giorni è un momento di incontro di varie associazioni e rappresenta la punta di diamante di un progetto più allargato che vuole vedere questo lembo di terra, il golfo di Squillace, come punto di formazione stabile, di conoscenza della biodiversità, grande ricchezza del territorio. Come ha detto, questo nasce dalla passione mia e ad Antonio condivisa dello studio della fitoterapia diciamo che a San Vito come casa delle erbe, qui la mia marchio è casa delle erbe, ho portato per vari anni corsi di riconoscimento di erbe selvatiche, commestibili e officinali, proprio perché il territorio calabrese in particolare questo ionico ha una biodiversità veramente eccezionale e pensavo che fosse assolutamente opportuno che la popolazione di qui avesse una consapevolezza di questa grande risorsa. Da questo poi è nato il fatto che appunto le case delle erbe sono un luogo in cui intorno a questa situazione cresce una piccola economia di trasformazione delle erbe eccetera eccetera e qui abbiamo voluto portare il Festival delle Erbe proprio come rete calabrese in cui queste realtà che stanno nascendo si incontrano e trovano un punto in comune. Ci si cura anche attraverso la fitoterapia, fa parte della medicina tradizionale? Ci si cura, fa parte della medicina, io non distinguerei tra tradizionale e moderna e antica se lei pensa che Ippocrate, padre della medicina, diceva il primo farmaco è ciò che mangi inseriamo volutamente in questo Festival delle Erbe anche ciò che mangiamo quando noi parliamo per esempio del goji, non è una pianta che ci appartiene però visto che dicevamo della calabria che è un posto dove tu butti un semino e cresce tutto in Italia ho scoperto, in calabria ho scoperto c'è la più grande piantagione di goji e non lo sapevo, l'ho scoperto grazie al Festival delle Erbe guardando un po' gli invitati che ci sono tra i vari relatori quindi la medicina direi è una e in questa unica medicina un posto importantissimo alla natura che è quella che ci ha comunque trasmesso il principale insegnamento, ci ha dato i principi attivi Alla presentazione del Festival delle Erbe rappresenta anche il giornalista Rai Paolo Di Gianantonio il quale sarà coinvolto dal collega Francesco Brancatella in alcune iniziative che si svolgeranno sempre a San Vito sullo Ionio diverse le associazioni partner del Festival Con molto entusiasmo ci sentiamo coinvolti anche perché il nostro paese è una manifestazione del genere sicuramente farà conoscere anche una parte diciamo culturale del nostro paese e noi siamo un'associazione nuova nata da poco e quindi un evento del genere che è l'unico in Calabria e diciamo che è naturale, siamo naturalmente siamo sentiti partecipi di questa manifestazione grazie a tutti